Buonasera, come annunciato proseguendo questo monitoraggio dell'attività dell'amministrazione comunale, questa sera incontriamo la Presidente della Commissione Bilancio dell'Assemblea Capitolina, Giulia Del Pesso, l'onorevole Giulia Del Pesso, ringraziamo di aver accettato il nostro invito e speriamo stasera di fare un po' un approfondimento su un tema importante quale è quello delle risorse dell'amministrazione comunale, come si dice senza soldi non si fa nulla, anzi io come alzano sarò brevissimo, vogliamo soprattutto sentire la Presidente e poi i soci che sono qui presenti, comunque Gabriele Gandelli, Antonio Botton, Gianluca Rona, Andrea Rossi, Piero Sandoli, vicepresidente anche dell'Associazione, Gianfranco Piccioni e Gianni Nasia, insieme a me animeranno, speriamo, questo dialogo. Io faccio la solita domanda ed è questa qui, non a caso parliamo di monitoraggio dell'attività di amministrazione, siamo a due anni e mezzo, abbiamo superato i due anni e mezzo di attività e mai come è giusta la domanda quale bilancio si può fare nell'attività sul bilancio. Io posso solamente dire che abbiamo superato mi pare una recente stagione nella quale si diceva con orgoglio che stiamo mettendo a posto i conti dell'amministrazione ma li mettevano a posto non facendo sostanzialmente nulla, mentre mi sembra che dentro una città così, una capitale come Roma, forse è molto importante che si spendano i soldi, si facciano le opere e forse dallo sviluppo della città si riesce anche a recuperare le risorse necessarie per garantire. Quindi dalla dinamicità di una città, dalla sua forza economica si ricavano anche le risorse per le attività. Quindi questo sarà un po' il cuore della domanda che io rivolgo a te. Questa città sta riprendendo la corsa o è rimasta ferma? E' anche la parola. Allora intanto grazie a tutti voi per questa importante occasione di confronto che ci consente di fare, almeno a me consente di fare un bilancio a tutto tondo. Quindi su questo grazie anche per, diciamo, la prima domanda che è molto, diciamo, aperta perché consente di dire più cose. Riprendendola un parte della domanda, diciamo, rispetto anche a una considerazione se postiamo un po' più politica, dirò solo questo rispetto a una stagione che io ho vissuto perché ero all'opposizione della passata amministrazione. Io sono dieci anni che sono amministratrice nell'Assemblea Capitolina e ogni giorno ti accorgi delle potenzialità e del modo in cui tu puoi, diciamo, sistemare, non solo migliorare ogni cosa che uno mette in campo. Ecco, la cosa che ho capito subito è che dire abbiamo sistemato i conti sulla carta non significa niente. Sistemare i conti se non hai la possibilità di verificare poi sul campo e non lo facciamo soltanto noi, io prima di essere amministratrice sono una cittadina come tutti quanti gli altri. Se non lo vedo fuori quello che io faccio vuol dire che non ho adempiuto la mia missione e forse lo sto facendo male. Quello che è successo nei cinque anni, diciamo, passati, ma forse qualche anno anche precedente, perché io ricordo anche la Giunta Le Manno su questo faceva, diciamo, ero molto più piccola, ma me li ricordo i titoloni. Ecco, su questo per qualche anno in questa città dal punto di vista di bilancio si è fatto finta che sui conti dal punto di vista tecnico fosse tutto a posto quando non era così. Nella passata amministrazione, ecco, su questo è l'unica cosa che dico, noi abbiamo vissuto questa, lo chiamo anche un po' situazionismo, in quale l'ex assessore al bilancio parlava di questo overshooting, cioè loro avevano delle risorse come sono i fondi normali, come li hanno tutti quanti, che però non spendevano e per loro era un meccanismo virtuoso, in realtà loro li mandavano ammittente con la, diciamo, la decisione politica di non decidere alcunché. Noi appena siamo arrivati, diciamo, due anni fa e abbiamo invertito questa tendenza, perché se c'è una cosa che io mi sento di affermare anche con molta forza, è che nonostante il comune di Roma, capitale del paese, sia costantemente sottofinanziato rispetto alla grandezza, al numero degli abitanti, ai city users, a tutti quelli che arrivano, poi diciamo siamo in un posto dove si vede anche il passare di tutte quante, appunto, delle situazioni dell'epoca che stiamo vivendo, costantemente sottofinanziato, perché non c'è una riforma definitiva sullo status di Roma capitale, perché appena siamo arrivati noi e si è abbattuta sulla città la sentenza della Corte Costituzionale sulla cosiddetta seconda carta che ci ha tolto di parte corrente e quindi di liquidità e quindi di servizi circa 150 milioni, che capite bene che per la capitale del paese non sono cosa da poco, invece rispetto sottofinanziata da fondi regionali, penso al Fondo Nazionale dei Trasporti, però ecco do degli input e poi magari in sintesi avremo modo di parlarne, comunque noi la chiamiamo rara congiuntura astrale, però ecco la stiamo vivendo in un determinato modo perché ci siamo noi e ci siamo caricati sulle spalle anche questa responsabilità, ecco abbiamo tante risorse che stanno arrivando in questa città, fondi nostri ordinari di sistemazione del bilancio che noi abbiamo trovato, limature qua e là rispetto ai dipartimenti, ai capitoli di bilancio e alle decisioni che volevamo mettere in campo. Quando siamo arrivati c'era una situazione di decoro non degno della capitale del paese e noi abbiamo stanziato subito, se vi ricordate noi siamo arrivati, diciamo rispetto alle normali elezioni sei mesi dopo per via del Covid, normalmente si vota a maggio, non siamo entrati a novembre, quindi di fatto il bilancio era chiuso, però ci siamo sentiti al di là della cosa di investire immediatamente in una pulizia straordinaria della città, quelli erano fondi subito liberi che abbiamo investito a poco meno di 50 milioni per farvi capire, che hanno dato un'impronta immediata su quello che volevamo mettere in campo immediatamente. Però ecco costanti risorse mai viste, perché ecco i fondi regionali che riguardano una serie di capitoli comunque ci sono, dalla ex giunta Zingaretti, ma anche oggi anche se battibecchiamo, però ecco di fatto ci sono i fondi PNRR, i fondi giubilari, c'è un importante investimento su questa città, chiaramente perché deve, ha delle sfide di fronte non indifferenti, il giubileo, inizialmente quando siamo arrivati c'era la questione dell'expo, noi ci abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto progetti che su questo possiamo rassicurare, non saranno rimessi nel cassetto, ma anzi sono rimodulati e saranno rimodulati. Però ecco l'impronta è quella di sistemare nel vero senso della parola i conti, questo sì, senza rimandare niente indietro, ma anzi spendere fino all'ultimo centesimo e trasformare radicalmente la città di Roma. Io so che voi state facendo un lavoro di monitoraggio anche tematico, visto che avete interroquito con alcuni miei colleghi, sicuramente vi hanno detto il lavoro che stiamo facendo su vari ambiti, soprattutto quelli più eclatanti sono i lavori pubblici, la canterizzazione di un sacco di opere che non si vedevano da tempo, tutto quello è frutto di un lavoro che per il primo anno e mezzo, mettiamo così, è stato fatto. Io sono, nel primo anno e mezzo avevamo anche un po' questa, come vi posso dire, vedevamo quello che poteva essere, quello che si faceva, lo vedevamo nelle riunioni, vedevamo i progetti, vedevamo le cose, però ecco non si perceviva ancora fuori all'esterno tutto quello che era potenzialmente, diciamo, la potenziale messa a terra. Oggi si vede clamorosamente, si vede dal maestoso cantiere di Piazza Venezia che secondo me è l'emblema, se vogliamo, di questa modalità di appunto mettere a terra i fondi e lavorare e poi anche dalle opere più minori alla sistemazione delle strade, la chiusura del ciclo dei rifiuti che sono grandi e annosi problemi. Per chiudere questa prima cosa, senza mai dimenticare i servizi alla persona, c'è tutto quello che si sta mettendo in campo e si sta facendo, ha sempre un occhio diciamo legato alle questioni sociali, alle fragilità, alle disuguaglianze enormi che comunque ci sono in questa città e che io sono Presidente della Commissione del Bilancio, me ne occupo diciamo in generale, sono però anche un membro del Partito Democratico e noi con la maggioranza diciamo abbiamo voluto dare dei segnali. In ogni sessione di bilancio abbiamo provato discutendo tra i colleghi anche a dare delle direttive molto serie, quella secondo me più importante è la Metrebus Card per i ragazzi fino a 19 anni, adesso proveremo a estendere un abbonamento di 50 euro per due questioni. Uno, noi vogliamo potenziare il servizio pubblico locale, nonostante ancora oggi sia molto in difficoltà, però ci stiamo lavorando, consentire ai ragazzi più giovani di spostarsi senza avere degli impedimenti anche dal punto di vista economico che non sono di certo, sono importanti per una famiglia che magari ha due figli e deve spendere circa 250 e 250, sono 500 euro. Ecco, questi sono dei segnali, è chiaro che non risolvono completamente tutte le questioni, però ecco il segnale rispetto magari al passato e alla domanda che veniva fatta è non solo le spendiamo le risorse, ma siamo stati talmente tanto virtuosi che abbiamo lavorato, ne parleremo perché lo so che ne parleremo al regolamento delle entrate, all'accertamento, alla discussione e tutto quello che abbiamo ripreso e recuperato che ancora non è tanto, ma è un dato molto importante rispetto a una stasi, anzi verso un dislivello più basso rispetto agli ultimi anni, lo abbiamo subito rimesso in servizio e quindi si è creato un meccanismo virtuoso. Facciamo un giro, chi è che vuole cominciare? E come dicevamo prima, Gianfranco Piccioni, sono il responsabile della parte Ambiente e Cibo di Visione Roma, sono anche uno dei coordinatori del tavolo del cibo del Food Policy di Roma collegata all'assessorato all'ambiente, quindi sono molto sensibile ai temi ambientali e ai temi legati alle filiere anche agricole e ambientali di Roma. Effettivamente questo risponde anche in termini proprio concreti, veri, perché due milioni di alberi che sono stati finanziati per essere anche con problemi legati alla mancanza di un avvivaio, vabbè insomma comunque diciamo Sabrina Fronzi in questo è veramente un assessore incredibile, riesce a portare avanti cose anche particolarmente impegnative come il ciclo dei rifiuti, ma non soltanto, io mi dedico più alla parte ambientale diciamo. Quindi una delle domande è che la spinta anche da parte dei finanziamenti per quanto sono appunto abbastanza importanti, articolati, PNRR non soltanto, andranno ulteriormente rafforzati sul settore ambiente e in questo caso anche metterei la possibilità, cosa che appunto a Roma è stata riattivata dall'assessore Alfonsi con la seconda dopo più di 40 anni, conferenza agricola, ecco la terza che è stata fatta pochi mesi fa, proprio cercando di rimettere in movimento il settore primario che è stato abbandonato praticamente in attesa della costruzione di tutto quello che poteva essere costruito. Considerato che l'obiettivo della riqualificazione e della rigenerazione passa attraverso un consumo di suolo zero, probabilmente questa parte potrebbe essere rafforzata ulteriormente. E poi una piccola domanda che riguarda però la filiera praticamente in realtà agricola. Noi abbiamo un problema ormai causato dalla fase di accettata iniziale di Alemanno che nella sua fianza creativa praticamente ha ammollato a lama il centro carni che è rimasto praticamente sospeso in un limbo che è diventato anche il centro fiori, considerate che la filiera agroalimentare e zootecnica si appoggia su quel pezzo perché siamo l'unico macello, ormai ne sono rimasti una dozzina in tutto il Lazio, quindi è l'unico poi oltretutto pubblico, quindi insomma è anche particolarmente importante per la valorizzazione delle produzioni locali. E poi la parte relata ai fiori perché prima il mercato dei fiori era un motore potente per il reddito degli agricoltori sul settore florio-vivaistico che invece adesso sostanzialmente è finito. So che è una storia lunga ma sostanzialmente l'AMA vorrebbe i soldi dal comune per poter restituire il bene perché effettivamente la banca gli ha dato 139 milioni di euro a fronte dell'ormai di questa cartolarizzazione inventata. Quindi queste sono le due cose, ambiente e poi cercare di vedere se nell'ambito delle cose che abbiamo nella pancia si riesce a trovare una soluzione anche a questi, diciamo, atavici errori del passato, diciamo. Grazie. Un argomento in parte collegato. Io Gianni Masia, socio di Visione Roma, mi occupo da sempre di digital transformation, prima in una multinazionale e da qualche anno in una PMI, una piccola media di impresa, quindi abbastanza votata all'innovazione. Gli ultimi vent'anni di piena attività li ho passati, diciamo, sugli sistemi della fiscalità locale, dove però in realtà è chiaro, è importante farli funzionare bene, rendere un servizio efficiente al cittadino, però mi divertivo sempre a toccare un po' gli indicatori di gestione perché poi sono sempre un indice di miglioramento, quindi se io vedo un'area di miglioramento mi posso dedicare a quella, magari sfruttando al meglio le risorse che possono esserci. Quindi da qualche anno osservo con una certa attenzione quelli che sono le tre fonti di entrata principali del Comune, l'Imu, l'Atari e le contravenzioni. Mentre l'Imu, che è una liquidazione spontanea, tutto sommato, ci si può stare, fra l'accertato e il riscosso di parte corrente, si arriva forse anche comodamente all'80%, quando andiamo all'Atari abbiamo seri problemi. Quello che è noto è che non si avverte ancora un'inversione di tendenza, nel senso che la riscossione su parte corrente non supera credo il 40-45%, quindi poi si deve andare sull'attività di recupero che fondamentalmente danno forse un risultato dopo due anni, poi però la curva riscende un'altra volta perché non viene data continuità. Le contravenzioni che hanno subito un fortissimo traccolo in periodo Covid, perché ovviamente non circolavamo noi, non circolavamo le macchine e quindi non c'erano le infrazioni, forse era meglio così per questo aspetto, però è chiaro che per un gettito di 250 milioni all'anno, prima nel 2019, che viene a mancare misura prevalente, quello poi si sente per le casse e quindi lì, lì devo dire che forse se uno guarda i numeri si pensa che sia un'abitudine che poi è andata oltre il Covid, nel senso che poi alla fine le sanzioni sono un po' cresciute di numero, la gente continua a non pagare, approfittando di quelli che possono essere i vizi di forma o di processo che in qualche modo ne rendono piuttosto problematico il recupero. Ecco, allora la mia domanda è questa, perché osservare un fenomeno di questo tipo senza andare in qualche modo in dettaglio nelle soluzioni per capire, ognuno di queste fonti d'entrata ha dinamiche completamente diverse, però la Tari è delicata, perché noi abbiamo un contratto di servizio con l'Ama e i soldi li dobbiamo dare, quindi è chiaro che quello che riscuotiamo va dritto per coprire i costi di quel servizio. Quindi le multe ne hanno altri, le violazioni al codice della strada, però ognuno ha dei margini in qualche modo di intervento per, non dico raggiungere l'efficientamento totale, però per recuperare progressivamente queste risorse. Quindi la domanda era se non conosco il rendiconto del 2023, quindi cosa porta, mi auguro che ci siano dei dati in miglioramento e magari se sono in miglioramento piacerebbe sapere a che cosa sono attribuiti e in generale se magari sia il caso di pensare a isolare questi casi e provare ad andare in profondità per capire quali possono essere le leve. Le leve non è mai una sola, quindi sono sempre una molteplicità di fattori, è una questione di sistemi, è una questione di preparazione delle persone, è un discorso di economia di processo, perché tocchiamo un tema che abbiamo trattato in tanti altri incontri quando ci siamo confrontati anche i colleghi, se non si mettono le mani ai processi è inutile addirittura investire in tecnologia, perché la tecnologia nuova su un corpo vecchio alla fine i risultati italiani sono modesti. Il problema va affrontato nella sua globalità, anche coinvolgendo un po' tutti quanti, serve una partecipazione del mercato per fornire soluzioni, serve una partecipazione abbastanza in profondità della politica, perché magari deve varare delle norme ad hoc per questo genere di recupero e soprattutto servono le strutture adeguate. Quindi mi piacerebbe sapere se è un fenomeno, sono sicuro che è così, che è percepito nello stesso modo con cui lo percepisco io, perché basta guardare i dati, quando mi occupo di questi numeri cito sempre la fonte, il fonte è il rendiconto annuale che viene deliberato dall'assemblea capitolina e dice delle cose inesorabili. È chiaro ogni tanto c'è qualche errore perché sono diciamo mediamente una ventina di allegati e quindi penso volentieri è chiaro che nel produrre diversi numeri si può incappare in queste cose. Ecco però se è possibile avere un po' qualche indicazione su che tendenza intende in qualche modo assumere l'amministrazione a questo riguardo. Allora sono due cose, parto dalla prima, è evidente che anche in quel caso, nel caso diciamo della questione dell'ambiente e tutti gli annessi connessi collegati scontiamo anni anche in questo caso, veramente in questo caso di nulla. al di là della bravura che è certificata secondo me di Sabrina e dall'assessorato all'ambiente che si è rimesso in cammino in modo, pensando a tutte le competenze dell'assessorato all'ambiente, c'è stato un periodo in cui si parlava soltanto di rifiuti, ama e diciamo decoro, l'assessorato all'ambiente di Roma Capitale ha una competenza che secondo me è importantissima, è quella legata all'agricoltura banalmente perché il nostro è il comune agricolo più importante diciamo dell'Europa, quindi su questo c'è stato un percorso, al di là della conferenza del cibo e scusatemi della conferenza agricola, proprio in questo caso veramente di cesura e diciamo anche di riconnessione con, scusate non cesura, di riconnessione con tante realtà che invece negli anni non hanno solo perso la speranza, ma hanno portato avanti questioni molto rilevanti e molto importanti su questo. Noi abbiamo fatto la, diciamo ripresa la questione della futpolis, abbiamo fatto il consiglio del cibo, abbiamo rimesso mano alla centrale del latte, sistemato la questione del car fino a un certo punto per le questioni che dicevate poco fa, non voglio entrare nel dettaglio diciamo delle cose, io ho anche le partecipate nella mia commissione sul tema delle partecipate, abbiamo veramente messo mano ai contratti di servizio e le linee guida, è dato un orizzonte di diciamo anche di lavoro, leggo le due cose, se tu lavori sul contingente, lavori sul problema specifico che magari l'hai risolto e poi tre mesi dopo ti ritrovi, non si, non offri un servizio non solo qualitativamente migliore e importante, non lo offri mai, cioè lo offri male, non dai diciamo nemmeno il senso che te ne stai occupando in maniera veramente responsabile e profonda, però ecco queste sono tutte situazioni che secondo me oggi stanno cominciando a dare il frutto, ripeto le conferenze, il lavoro fatto su tutto il tema della sostenibilità, noi abbiamo lavorato per lavorare alle comunità energetiche e quindi tutto il lavoro sul diciamo del riciclo, della possibilità, anche dell'ottimizzazione di spazi, perché non si pensava di poter fare una serie di cose, quando tu rimetti in circolo il pensiero dello spazio urbano e rifai le strade, sistemi diciamo magari togli anche qualche parcheggio eccetera, il verde è fondamentale, non solo per diciamo un aspetto paesaggistico, ma è importante per come viviamo noi la nostra qualità della vita e la qualità dell'aria, c'è stata tutta una, mi viene da sorridere perché c'è stata tutta una polemica l'estate scorsa a mio giudizio un po' ridicola, poi questi social ci aiutano a volte ma su tante cose veicolano male dei messaggi, fatta da un attore famoso sulla questione del nuovo progetto che è della nuova piazza che si sta facendo a Piazza Pia a Castel Sant'Angelo che ha detto non ci saranno gli alberi, le zone d'ombra, il cambiamento per le mani, gli alberi ci sono nel progetto, non solo, a un certo punto abbiamo inserito anche la possibilità di piantumarne altri e fare in modo che si crei anche un bulevar parlo in Piazza Pia per esempio da via Ottaviano per fare in modo, anche lì si sta facendo un cantiere, è chiusa la strada, si toglieranno, diciamo metteranno dei parapetonali molto belli ma metteranno degli alberi per fare in modo che si creino non solo delle zone d'ombra urbane ma si lavori a migliorare la nostra qualità collettiva di intendere lo spazio urbano e non è una cosa diciamo non indifferente, il sindaco fa questi video che secondo me in questo momento storico sono un pezzo importante anche della narrazione che noi vogliamo dare divisione eccetera, io non voglio essere, non voglio fare propaganda, qui non c'è bisogno di fare propaganda, ma l'avete detto voi, quanti migliaia di alberi stiamo piantumando in questa città, quanto, anche con fatica, anche con fatica perché poi ci sono situazioni che come sappiamo di ciclo di vita, di situazioni pregresse che devono essere mantenute, sistemate, c'è sempre qualche cosa che magari intoppa, bisogna però c'è un'attenzione che a mio giudizio non c'era da tantissimo tempo, almeno io personalmente non la ricordo anche in maniera molto spasmodica, questa modalità di intendere il decoro come vivere bene gli spazi della nostra città, io penso che abbia diciamo, viene dato un valore aggiunto a quello che facciamo anche per questo, non è soltanto mettere due fioriere, sistemare due alberi, o avere, questa secondo me è un'altra delle cose importanti che vanno sottolineate, delle partnership sane con le associazioni del territorio, provare a dare pezzi di verde di questa città in collaborazione con alcune situazioni importanti di collaborazione tra cittadini, secondo me sono un esempio virtuoso di come noi ci dobbiamo occupare nella nostra città, non devi appaltare ad altri la possibilità di mantenere, sistemare, collaborare però sì, i patti di collaborazione urbana stanno secondo me dando i loro frutti in questo momento, perché io vivo in una zona tutto sommato centrale e mi accorgo che ci sono delle situazioni che sono fino a qualche tempo fa erano di degrado estremo, non c'è semplicemente l'associazione diciamo che va lì quotidianamente, ma c'è un'attenzione anche da parte del servizio ai giardini, c'è un modo diciamo di occuparsi delle questioni, delle questioni non una tantum, ma in maniera periodica, che è quello che dovrebbe essere poi di fatto una valorazione ordinaria, c'è stato un momento in cui è sembrato che noi volessimo, anzi che Gualtieri e che l'amministrazione Gualtieri volesse far passare questo modo di fare come straordinario, no è chiaro che è straordinario, perché nessuno ha visto quanto tempo è che non venivano puntate le piante a Viano Ventana, quanti anni è che non venivano, io per esempio sono ad uso fare il muro torto, dal lato diciamo dalla Flaminia verso, una delle cose importanti che secondo me è stata fatta è lo sfalcio, la sistemazione di tutta la parte del muro torto, non si vedevano le mani, se vieni da un lato o dall'altro non vedevi l'altro lato della carreggiata, quando l'Alfonsi ha chiuso la tangenziale, chiaramente con non solo lei, in collaborazione con i dipartimenti eccetera, c'era la gente che applaudiva dalle finestre perché diceva ma come veramente stavi chiudendo la tangenziale per chi persiste, sì, si devono fare determinate cose, si fanno, si si dà degli obiettivi e si programma, questo è l'altro problema, che veniva programmato male o veniva non programmato e quindi tu ti dovevi occupare di quello che accadeva perché c'era un'emergenza o una situazione di questo tipo. E anche lì sono fondi anche di altro tipo, tra dall'Europa e PNRR, tutto il tema della sostenibilità ambientale, c'è tutto un capitolo di lavoro con l'ufficio clima di Roma Capitale, Zanchini, tutto un lavoro su questo metodico dal mio punto di vista perché c'è anche una cosa che noi non dobbiamo mai dimenticare, che non è soltanto il fare le cose ma provare a formare un'educazione diciamo civica, collettiva e c'è anche questo, c'è la parte di convegnistica, c'è la parte di formazione nelle scuole, c'è la parte di lavoro con le realtà diciamo associative che secondo me danno l'idea di non essere diciamo totalmente distaccati nell'amministrazione quotidiana delle cose ma diciamo di una presa in carico collettiva della diciamo di questo. Quindi ripeto, secondo me sì, ti posso dare del tu, sì assolutamente, hai ragione anche non solo nel, è chiaro che io ho un giudizio positivo, interno e anche un pochino sicuramente di parte, però come dicevo prima, io le ho viste nelle riunioni queste cose, all'inizio c'era questa sensazione di non vederle fuori e non ci capisce nessuno, oggi finalmente è realtà e quindi anche questo nostro modo di provare ad arrivare allo stile a giubilare con diciamo una vivibilità urbana, ecco in questo caso che attenta alla sostenibilità, che attenta a percorsi virtuosi è anche un lascio, cioè è il modo di, non è solo una visione, ma è anche il modo di fare, di amministrare di governare la città. Forse sul tema delle aziende, aziende o comunque cose limitrofe, per esempio sul tema del mercato dei fiori è successo quello che è successo, lo sapete tutti, è crollato, diciamo è lo stabile. C'è, secondo me bisogna andare un pochino più veloci, cioè sì ci siamo un po' arenati tra le varie cose, anche lì quello è un indotto notevole. E poi ci lamentiamo dei trattori che arrivano a ruolo. Io no, mi lamento, o meglio mi lamento perché c'è qualcuno che non gli dà risposte, è chiaro, però lì poi c'è tutto un tema legato all'agricoltura che se vogliamo poi apriamo, non è direttamente in materia diciamo di cui mi occupo, però ho visto il lavoro che si è ripreso in mano che non solo con le aziende agricole ma con il, diciamo il, come posso dire, io utilizzo sempre la parola virtuoso perché secondo me è questo, se tu stai fermo per troppo tempo ci metti pure un po' a rimetterti in cammino, non è una cosa facile. Quindi questo diciamo in maniera un pochettino complessiva. Torniamo ai numeri, situazione abbastanza incredibile, nel senso che, avevo detto che non parlavo della passata amministrazione, però questa è una cosa che devo dire. La passata amministrazione sul tema delle entrate non ha fatto alcunché, ma anzi, secondo me ha peggiorato la situazione. Hanno tolto ogni tipo di strumento bancario diciamo telematico per poter pagare una serie di, diciamo, le bollette, le cose eccetera. Quello, secondo me, è uno dei motivi per cui noi, non solo c'è stato il Covid e come dicevate prima, almeno si è arenata, cioè si è fermata per cause di forza maggiore, però in quegli anni, in quel modo non c'era in questo caso veramente un meccanismo virtuoso. Noi abbiamo sistemato questo, diciamo, pezzetto di lavoro che si vede nel rendiconto di quest'anno che noi abbiamo approvato in assemblea capitolina. È stato fatto alla fine di aprile perché per scadenza di legge poi alla fine è stata prorogata, ma noi abbiamo... Non è ancora pubblicato. Non è stato ancora pubblicato perché come è un po' pesante poi il sistema, diciamo, non solo non aiuta, ma, diciamo, come vi posso dire, sulla pubblicazione, secondo me il segretariato su questo dovrebbe essere un pochino, ogni tanto una tiratina d'orecchie, ma questo, diciamo, lo dico più da utente. Se posso, ecco, proprio per dire che non va tutto bene. Però al di là della pubblicazione e della cosa sarà mia cura fornirtelo, se su questo mi... Mi fa piacere perché... Mi piace vedere gli ultimi numeri cosa spostano. Perché c'è un dato rilevante. Intanto con, diciamo, tutti gli strumenti messi in campo da Roma Capitale e con il nuovo regolamento delle entrate e qui banalmente la domiciliazione bancaria, l'app Io, tutta una serie di cose si è alzata notevolmente la capacità di discussione. sul tema della Tari, c'è stata... abbiamo tolto il meccanismo, l'abbiamo ridata Dama, abbiamo fatto un po' di lavoro e lì, rispetto, abbiamo fatto un paragone, soprattutto dal 2019 si è elevata notevolmente la capacità di discussione perché si è andato un pochettino più nel profondo, soprattutto sull'arrivo a casa della bolletta, perché tu stai benissimo che sul tema della Tari molto spesso si faceva melina, non arrivava la bolletta, c'era un meccanismo un po' particolare. C'ho un dato sulle multe perché sapevo che potevo essere, sui dati potevo essere un pochino strugugliata e me lo sono andata a prendere proprio oggi, ero in Campidoglio prima di venire qui perché una delle cose che ci viene rimproverata da tutti, diciamo cittadino più impegnato, chi come voi guarda magari qualche dato e poi i nostri organismi di revisione economica e finanziaria, l'Oref su questo, puntualmente, puntualmente, io facevo il bilancio prima, ero in commissione prima, puntualmente sulla riscossione delle multe… È un copia e incolla, da un anno a un anno. Oh benissimo, io sono questo, ci siamo intesi. Però c'è un dato che io vi vorrei provare a dare, intanto ad oggi, quindi questo non è ancora un dato se vogliamo pubblico, però ho chiesto di poterlo dire e lo dico, ad oggi sulle multe abbiamo, quindi codice della strada, abbiamo un incasso che arriva, incasso non riscossione, quindi l'incasso del 45%, globalmente inteso rispetto, diciamo abbiamo superato rispetto a dati impietosi che non voglio dire così, non ce li ricordiamo oggi. Però sulle strisce blu pagate con app io, solo con app io, questo secondo me è un dato clamoroso per farvi capire come poi alla fine anche l'ottimizzazione dei sistemi e la tecnologia, su questo un pochino ci può aiutare a lavorare e poi provo a dare una risposta invece sul tema dei sistemi più globalmente intesa. Comunque, multe strisce blu, nel 2023, quindi nell'annualità 2023 dal momento che è stato reintrodotto, ne sono state pagate solo sull'app io 140 mila. Oggi, questo è un dato che mi viene dato oggi, nel primo quadrimestre del 2024 solo sull'app io, primo quadrimestre sono 150 mila. Quindi se la matematica non è un'opinione e se ci possiamo dire che questo è un sistema che è stato reintrodotto, o meglio introdotto da nuovo, con tutta una modalità anche di, se posso dire, anche di lavoro un po' più evitare di pensare che il cittadino vada solo punito. C'è questo meccanismo per il quale c'è sempre questa contrapposizione anche un po' negativa. A sbagliarlo, indubbiamente. Io sulle doppie file sono, non sono l'integgerri, ma sono io che provo a chiamare quando posso. Lo dico, mi autodenuncio, non è tollerabile, soprattutto per le persone che hanno disabilità e che si trovano molto spesso costrette a dover rinunciare a fare determinate cose della loro vita perché ci sta qualcun altro che intende lo spazio un po' troppo oltre rispetto a queste cose. Però al di là della questione specifica, reintrodurre una modalità di compliance con delle lettere inviate a casa o direttamente con l'avviso del pubblico, su questo dato ti dà un dato indicativo. In un anno 140.000, nel primo quadrimestre del 2024 150.000. Questo fa ben sperare sul numero complessivo finale. L'ho preso, diciamo, come dato perché io pure sono curiosa di questa cosa. Cioè il meccanismo del copia e incolla, io me lo ritrovo, io sono abituata a leggerle tanto, anche per una ragione, perché molto spesso l'opposizione che viene fatta in Campidoglio è proprio strumentale su alcune cose. Quindi uno prende la delibera, scusatemi, il parere che viene dato dall'Oref, va a cercare le criticità e ne fa un argomento di dibattito pubblico eccetera, fantastico. Dopodiché a me interessa il giusto che mi viene ribadito in aula fino a un certo punto. Io voglio andare a capire perché ogni volta nel previsionale, nell'assestato e nel consulti, diciamo, nei tre momenti più importanti di bilancio, su questa cosa l'Oref certifica ogni volta la stessa cosa. Questo per dire cosa? Due cose e mi taccio. Uno, che spero che nel prossimo parere ci sia almeno un riconoscimento del lavoro che viene fatto, perché secondo me questo è un dato emblematico, perché ho parlato solo del segmento dell'app io, quindi vuol dire che è tutta un'altra serie di cose. Ripeto, se il meccanismo funziona, è notevole da un certo punto di vista, deve essere secondo me certifica anche altro. E quindi spero, non solo in una modifica del copia e incolla, ma spero che ci sia un valore aggiunto di questo. Un'inversione di tendenza. Esattamente, un'inversione di tendenza che io per esempio sulla Tari ho visto. Se poi vogliamo dividere la cosa, la vedo sul cittadino o non la vedo sull'utenza non domestica? La vedo sul cittadino, non la vedo sulle UD, che oggi secondo me sono il grande tema da aggredire anche in virtù, appunto, in vista delle sfide che noi abbiamo, cioè affrontare il giubileo con tre quarti degli esercenti, ristoratori che sversano male, utilizzano male e di fatto seppure la multa non è adeguata al danno che arrecano alla cosa, ci sono anche quelli che ti dicono, però a volte è meglio pagare una multa, piuttosto che no, questo per me è un meccanismo che non esiste, non deve esiste. E poi una cosa legata invece al sistema, se posso, vanno allineati, cioè secondo me nel grande calderone del sistema Roma Capitale, della macchina amministrativa, noi abbiamo delle tante sperimentazioni, abbiamo tanti segmenti di lavoro, abbiamo l'urbanistica in un determinato modo, i servizi in un altro, l'Atari adesso è, e poi c'è qua Roma, secondo me, non sono un assessore, so che ci si sta lavorando, perché banalmente lo avete visto anche sul tema del servizio al cittadino, se immediato i certificati, le carte di identità, siamo tanto andati in affanno negli anni e anche oggi per quanto abbiamo recuperato, se vi posso dare un dato, nell'arco dei prossimi 8-9 mesi, forse un anno complessivo, ma forse è tanto, avremmo rifatto le carte di identità in formato elettronico a tutta la città, quindi quella roba lì finisce, finisce a un certo punto, però noi siamo tanti e quindi alla fine bisogna diciamo far, come dire, combaciare tutte quante queste cose, però io penso che a un certo punto l'allinearsi di tutta una serie di situazioni e, secondo me, il lavoro che si sta facendo dal punto di vista della tecnologia, tante sperimentazioni, intelligenza artificiale, tutta una serie di cose, se applicate in un determinato modo, secondo me quei dati li capovolgono, completamente. È una provvisione ottimista? Sì, ottimistica. Non bisogna essere ottimisti. Però io lo sono di natura, cioè io non avrei fatto questo mestiere, se ogni volta mi dico, oddio mi sento male, oddio la buca, oddio la… sì, però la divisa è la sfida più importante e quindi questo è una cosa. Sulle multe, io ce l'ho proprio qua, è proprio una mia… perché io purtroppo lo vedo che c'è un topo. C'è una parziale inversione di tendenza, non voglio essere completamente ottimista, però io siccome sulla Tari l'ho vista e ho rivisto un recupero enorme di circa 200 milioni spalmati sui prossimi due anni, che sono una cifra enorme, enorme e questo mi permetterò di mandare a lui, a voi, il rendiconto che può essere un dato notevole. Poi io accetto i suggerimenti, quindi su questo io sono la… diciamo… mi permetto di fare un po' di politica… è uno facile facile, perché in questo periodo, poi a dicembre dello scorso anno l'amministrazione ha rescisso il contratto con il vecchio gestore dei sistemi. In questi giorni stanno procedendo all'affiancamento, quindi al rilascio verso il nuovo soggetto. Io credo che ricalcare lo schema di lavoro di quello precedente, come è abbastanza rischioso che sia, sia abbastanza controproducente. Allora, io credo che un messaggio forte al nuovo gestore nel dire che le criticità sono queste. Fate delle proposte operative che tendano a, non dico ad azzerare questo gap enorme che c'è fra il riscosso e l'accertato, ma perlomeno a rivelare a trovare le soluzioni. È impossibile, ormai il 70% delle sanzioni del codice di strada sono rilevate automaticamente. Eppure il rischio più grosso che hanno i 90 giorni è quello che vanno in prescrizione. Allora, è possibile che un dato che io rilevo in automatico poi non lo porto a riscrizione? C'è qualcosa in termini di processo. L'Atari è pur vero che è facile recuperare l'arretrato. Ha pubblicato dei risultati eccezionali il Comune di Napoli, ma come dire, come le diede, no? Ti vuole buttare giù 30 kg, in una settimana ne buttare giù 15. Il problema è il resto, quando bisogna andare un po' in profondità, no? Quindi il vero problema è, per esempio, l'utenza fantasma. Allora, che è un problema da affrontare nello specifico. Quindi per me il suggerimento è chiamare il soggetto subentrante e il tuo compito non è solo far funzionare i sistemi, ma ottenere anche dei risultati che consentono di recuperare queste cifre. A questo qualcosa facciamo. Io ho l'impressione che ci sia comunque un problema di sistema di base. Se vogliamo far funzionare questo Comune, innanzitutto dobbiamo operare con maggior fantasia. È inutile che aspettiamo le leggi costituzionali o non che siano, forse bisognava darsi da fare, cercando di gestire con poteri specifici anche le singole municipalità. Ho l'impressione che questo non sia stato affatto fatto e i due resoconti che sono stati pubblicati non c'è una riga su questa roba qua. E qui forse, se non partiamo dal motore, la macchina potrà avere delle ipotesi di funzionamento più o meno fantasiose, ma se non operiamo sul motore ho l'impressione che facciamo dei lanci molto corti. Ci sono poi dei settori che da sempre non sono stati gestiti e sfuggono a qualsiasi controllo. Quindi a mio avviso va semplificata tutta la procedura, perché laddove qualche operazione è stata fatta, sia pure di capotaggio minimo, i risultati sono arrivati. È mancato il coraggio, ma non è che è mancato a questa giunta, è mancato a tutte le giunte, il coraggio di lasciare la possibilità a una sorta di motore immobile plotiniano che sostanzialmente potesse gestire una procedura di semplificazione. Se noi non riusciamo a utilizzare tutto ciò che l'informatica oggi ci consente, di fatto corriamo il rischio di non poterla gestire questa città. Non solo questa, ma tante altre, questa a maggior ragione. Noi dovremmo avere una serie di municipalità a statuto speciale, quella del mare, quella del centro, ma tante altre hanno peculiarità che vanno osservate. Il tema è poi appunto i settori che sfuggono a qualsiasi controllo, la cartellonistica, che è e continua ad essere al 90% abusiva. I passi carrabili, nessuno sa quali sono e nessuno prende una lira da quelli. Bisogna operare un attimo di fantasia su queste due cose, ma secondo me a monte bisogna operare sulla semplificazione dei procedimenti, perché qui non è il problema del copy and call e che i bandi, anche per cercare il gestore nuovo, sono sempre gli stessi. E spesso sono stati fatti senza nessun tipo di fantasia. E allora lì avere qualcuno che in qualche misura è in condizioni di rileggere le procedure e di rioperare sui bandi, perché se i bandi continuavano a fare come li facevamo nel 1920, pur vero che l'università funziona sempre con la legge gentile che è del 1923, quindi ha compiuto di cento anni. Però di fatto probabilmente non è così che può funzionare per il futuro. Quindi se queste cose non si mettono un attimo… e forse lì il problema non è di fare politica, è di fare metodo. Perché la politica poi alla fine è la politica dell'annuncio. Io tanto annuncio una serie di cose che poi non farò mai, tanto nessuno me le chiede, perché così sta funzionando. Diciamocelo obiettivamente. Il cittadino vuole vedere che la macchina funzioni, altrimenti corriamo il rischio. E già ce lo dicono per le europee che se va a votare il 45% dei aumenti di diritto al voto, pare che sia già un successo. Il che vuol dire che uno si vanta di aver avuto il 20% perché ha avuto il 9% reale di quelli che l'hanno votato. E questo ho l'impressione che poi funzioni molto male in futuro. Facciamo sentire a lei. Spot, così diamo a tutti l'opportunità di parlare. Sì, sulla riforma di Roma Capitale siamo non in ritardo, proprio completamente fuori fase. Ma è inutile scrivere dei pezzi di programma se poi noi si leggono. Però non dipende solo da noi. Secondo me oggi noi invece siamo nella congiuntura di poterla fare questa cosa perché c'è un input da parte di varie, non solo da parte della politica. C'è una richiesta potente da parte del sindaco che banalmente ha fatto anche il ministro e ha ricoperto luoghi in passato che secondo me gli consentono di avere una visione ampia. Però non è stato fatto l'unico. Eh no, sto dicendo proprio oggi per esempio sul Messaggero, non so dove ho letto. Sono due anni e mezzo che è stato. No, ma sulla riforma di Roma Capitale noi abbiamo fatto quello che potremmo fare. Ad oggi come Partito Democratico, voi sapete ci sono almeno 6-7 proposte, c'erano. Sì, ma non dovete puntare alle proposte degli altri, dovete capire, sì, non degli altri inteso Parlamento, dovete da dentro, comune di Roma, capire quello che si può fare perché bisogna operare a macchina invariata, inutile aspettare il disegno di legge di Barelli, di Morassut o di altri. È importante secondo me interrogarsi su quello che si può fare per migliorare al sistema. Sì. E ho l'impressione che non si stava fatto. Io su questo non sono totalmente d'accordo. Nel senso che la riattivazione del percorso, per esempio, dei concorsi che erano fermi da tempo, si potevano sempre fare nello stesso modo, ma quelle sono le procedure che ci dà lo Stato anche su queste cose. Sì, però la cosa su cui sono d'accordo, lo dico, è la questione invece dei poteri. Perché quando tu hai i poteri commissariali, per esempio il giubileo, per esempio la questione dei rifiuti, non solo hai fatto la politica dell'annuncio, perché il termovalorizzatore noi l'abbiamo annunciato. Oggi c'è l'apertura della busta, c'è il bando e c'è un percorso che si sta portando avanti. Poi è chiaro, il termovalorizzatore in quelle condizioni non si schioccano le dita e il giorno dopo è costruito. C'è tutto un percorso. Però... Sì, sì, ne ho un'idea abbastanza varia. Non ho dubbi, conosco assolutamente... Non ho dubbi. Però io penso che la differenza sia questa. Sulle municipalità varie è indubbio che noi abbiamo dei presidenti di municipio che di fatto chiamiamo mini sindaci anche per questa ragione, perché governano porzioni... Io penso al settimo municipio. Il settimo municipio forse sono tre medie città italiane. Sì, bisogna inventare qualcosa che consente, in attesa che praticamente succeda qualcosa da qualche parte e ci si renda conto che Roma capitale non basta inserirlo sulle portiere delle macchine dei vigili per capire che sia tale. Certo, certo, certo. Lo siamo ritrovato. Però ho capito benissimo. Perché in realtà quell'articolo della Costituzione che è stato modificato nel 2001, quindi nel titolo quinto, di fatto è un articolo totalmente privo di substrato concreto. Noi non abbiamo da quel punto di vista fatto nulla. Le capitali europee, che sostanzialmente in qualche modo dovremmo imparare ad imitare Parigi, Madrid, di fatto, o anche Berlino, hanno sostanzialmente ben altri poteri e in fondo un'antica legge per la quale ancora voi vi chiamate onorevoli e sostanzialmente consentiva a Roma di avere un governatorato, non un potestato. E allora lì bisogna tornarci sopra, non basta tenersi il titolo. Con questi monitoraggi. Abbiamo sempre posto il problema della discussione che c'è sul potere dei municipi, sulle necessità che hanno i municipi di essere vicini ai cittadini, ma di poter anche rispondere a quanto richiede il cittadino. E lì si apre il problema, non ha i poteri, non ha le risorse, non ha il personale e via discorre. Ora, Piero praticamente pone un problema. Qui si apre, soprattutto nel Lazio, questo grosso problema nell'equilibrio tra i dati soggetti che ci sono, per Roma una grandissima dimensione, si pone il problema dei rapporti con la regione Lazio e poi al di sotto il decentramento serio a livello municipale. Sono problemi talmente tutti concatenati tra di loro. Piero dice cominciamo a fare qualche cosa di reale. Questo è il concetto. Questo dice, i problemi, sostanzialmente la traduco per tradurla in una proposta che possa essere anche gestita. Come cominciare? Perché altrimenti, se guidiamo a discutere, lo vedo anche in questi incontri, ne discutiamo, sappiamo tutti che il problema c'è, ma non riusciamo a vedere qual è il punto di partenza. Poi usciamo da qui e ci diciamo che c'è qualcuno che tanto se ne sta occupando da un'altra parte, quando in realtà non è quello. Io penso, il punto di partenza, secondo me, se deve essere il comune di Roma, io non lo so se è il caso di fare, ma lo dico banalmente per la cosa che veniva detta prima, io non lo so se un'altra commissione di studio è utile. Lo dico perché se no si alimenta quel meccanismo per il quale, allora, noi ci rimettiamo a studiare e ricominciamo da capo. Io invece penso che quello sia un punto di partenza oggi. Il punto è oggi c'è qualcuno che ci dice, perché è stata occasione di questa mattina, diciamo di dibattito anche oggi, vengo dal Campidoglio se ne è parlato, non c'è soltanto la proposta di un partito, c'è quello che veniva detto adesso, c'è la sintesi tra varie proposte politiche di questo benedetto disegno, diciamo a doppia firma, tripla firma, comunque diciamo bipartisan, mettiamola così. Secondo me oggi c'è l'input politico a portare a casa questa cosa, perché c'è un interlocutore serio che è il sindaco di Roma, che parla diciamo con i livelli superiori, ma alla pari a mio giudizio. E già questo non è un caso rispetto per esempio, venivamo dalla passata consigliatura, non era così, non era minimamente così. E secondo me questo è un tema di autorevolezza e competenza del nostro attuale sindaco, che su questo tema dice, secondo me quello è il, diciamo, questa è oggi l'occasione, abbiamo da affrontare insieme il giubileo, abbiamo da affrontare insieme, diciamo, la messa a terra tra virgolette delle risorse PNRR, perché come sapete c'è un pezzo nelle cabine di regia, le cose, siamo insieme al di là del nostro personale posizionamento politico. Io con la Meloni non devo fare qua, diciamo, non sono qui per questo, non condivido, diciamo, quasi nulla, tantomeno questo, ma se sulle questioni delle riforme, e tolgo da qui, diciamo, la madre di tutte quelle che stanno facendo autonomia differenziaria, ripeto, non sono qui per questo. Ma se sul tema di Roma Capitale c'è un input politico, io oggi quell'input politico, come è stato fatto per esempio sulla gestione commissariale nel Mille Proroghe, che è stata, diciamo, fatto un lavoro anche in quel caso parlamentare, diciamo, di commissione bilancio e poi è arrivata appunto all'approvazione finale del Mille Proroghe, tra l'altro su questo io farò una commissione per informare, diciamo, sul tema della gestione commissariale che riguarda anche, sembra una cosa molto distante, invece riguarda molto più da vicino noi e tutta la questione dei numeri di quanto altro, di tante altre cose, però io penso che quello sia l'input. Se dobbiamo fare un'altra commissione di studio, secondo me torniamo indietro. Io credo appunto che bisogna arrivare con delle proposte proprie da parte del Comune, non attendere che altri lo studiano, che qui il problema poi grosso è ancora uno, capire se questa è una riforma costituzionale con il rischio che non c'è la possibilità della doppia lettura per arrivare a vararla e comunque sarà lunga, o cercare di fare qualcosa a costituzione invariata, come fece il 112 del 98, con una serie di deleghe che a cascata vanno dallo Stato centrale alla Regione e ulteriormente vanno a implementare le attività degli enti locali. Cercando poi anche di capire che bestia sia stare a metropolitana, che nessuno ha capito, perché dopo che l'hanno scritta la 142 si sono evitati di leggerla. Tutta questa roba, io credo che in realtà siccome casca sulle spalle di un Comune che hanno voluto rendere troppo grande e quindi ingestibile, o il Comune opera di fantasia e cerca di gestirlo, o necessariamente è costretto a navigazioni di piccolissimo cabotaggio che probabilmente ti consentono di tagliare gli alberi a Via Salaria, però poi dopo ne casca uno a Via Noventana, perché non ci sei arrivato, perché per tempo la gestione non c'è stata. Non ci sono dei problemi con i commissari, è una prova, che invece si sarebbe bisogno di qualcosa di diverso, perché hai bisogno dei commissari. Quindi quella roba lì, intanto che questi decidono se deve essere a Costituzione variata o invariata, ormai nella Costituzione c'è va tutto, nella Costituzione abbiamo deciso che ci mettiamo tutto, a musica, rock, tutto quello che volete, tanto quello che vi viene in mente è entrato, non lo sport c'è entrato, gli animali sono entrati pure nell'articolo 9 tra i principi, lanciare delle proposte che siano aperte anche a quella che si chiama società civile, perché poi in realtà fa politica non è un mestiere, fa politica un servizio, un mestiere poi uno solo fa altro, almeno questo io è quello che ho sempre ritenuto. Se no i problemi di questa città non li risolviamo. Allora riprendo, il sogno del cassetto qual è? È che l'assessore al bilancio o il Presidente della Commissione bilancio prenda il bilancio e vada a discuterlo, a illustrarlo, a parlarne, a confrontarsi con i giovani, con i diplomanti, con i liceali. Nelle scuole? Nelle scuole, sì, non solo nelle scuole ma in quelle scuole, di quei municipi dove forse si annita un maggiore astensione al voto. Quindi questo aspetto è tosta. Ci andiamo col bilancio? Sì, sì, col bilancio. No, l'ho capito, l'ho capito, è che va a creare un po' di appilla perché non è proprio la cosa più bella. Far capire i ragazzi da dove vengono i soldi e dove vengono. Adesso faccio una battuta poi su questo, se posso. Sì, sì, ci si dà qualcosa. Ma io solo un, abbiamo sfiorato il discorso dei capitali europei, di comunità energetiche, voglio sapere se a bilancio c'è qualcosa di congruo e una progettualità di ampliamento delle comunità energetiche. Sì, sì. Allora, Andrea Rossi, socio di Visione Roma. Intanto Giulia la trovo preparatissima perché quello che è accaduto a Roma negli ultimi vent'anni è stato qualcosa che ha vissuto diventando padre e crescendo dei ragazzi fino ad oggi, se ne ha accorto drammaticamente, sia a livello di servizi soprattutto, sia a livello di vita quotidiana. da cittadino che un po' conosce l'amministrazione, faccio due domande. La prima, come è oggi il rapporto con l'amministrazione interna, quindi con i dipendenti pubblici, non solo con quelli dell'assessorato al bilancio, ma in generale, perché io penso che un buon funzionamento della macchina del personale consenta anche un miglioramento delle prestazioni, delle origazioni, dei servizi, anche se oggi tutto sarà sempre più digitalizzato e informatizzato. Questa è la prima cosa. Poi volevo appunto sapere, nelle voci di bilancio, oggi ho visto un'iniziativa molto bella, a cui i miei figli appena 18 anni hanno aderito, anzi l'ho vista ieri, che è quella di un grande concerto che si farà a Capannelle, gratuito, per i ragazzi. Devo dire che io ho un po' sformato su questo. Quanto sarà l'impegno attuale del Comune di Roma per le politiche dei giovani? Grazie. Perché è così che completiamo le nostre situazioni? Non ho un po' cosa dire, nel senso che noi abbiamo fatto diverse proposte, abbiamo parlato di verde, abbiamo parlato di municipi, basta andare sul nostro sito, c'è tutto. Poi ce n'abbiamo una relativa alle concessioni sportive degli spazi, che ci sono un sacco di problemi su quella cosa, l'abbiamo presentata già a Onorato, a Tobia Zevi, ci manca solo la scuzzese che l'assessore riguarda, bilancio anche se questa è una cosa del patrimonio, cioè lì ci sono grossi problemi di gente che non paga, di gente che si è indebitata col credito sportivo con la garanzia del Comune e il Comune adesso sta… Allora noi abbiamo fatto una proposta di trasferire tutte queste concessioni, quindi proprio materialmente le strutture, ad un fondo di proprietà del Comune, quindi praticamente non cambia la proprietà, portando… questo non entro nel dettaglio, portando anche dei benefici di plusvalenza al bilancio, non ovviamente di soldi, ma… e questo darebbe modo, se gestito da questo fondo del Comune, di abbandonare il diritto amministrativo, di passare nel diritto civile e fare tutto in un semplice rapporto con i gestori, con i concessionari e quindi poter aggredire coloro che non disattendono di fare tutto un piano finanziario, perché attualmente io so che per esperienza non pagano tantissimo, ed è giusto che non paghino tantissimo, quando sento che ci sono società che tolgono dalla strada 600-700 ragazzi, è anche giusto che abbiano delle condizioni di favore. Però questo renderebbe tutto più snello e tutto molto semplice. Poi, se tu vuoi, ti mando il nostro studio… Conorevo, devo dire una cosa molto interessante, infatti noi stiamo dicendo che se non facciamo, non costruiamo un'immagine di approfondimento su questa tematica, può essere una soluzione del problema. Allora, a te, guarda, l'uno è… Varie cose… Puoi concludere praticamente. Sì, no, allora, varie cose me le sono anche appuntate, grazie. Parto dando risposte random e poi provo a fare una conclusione un po' più politica. Politiche dei giovani, lavoro anche, lo leggo magari al sogno che veniva detto prima, è molto… è una materia complicatissima in generale, molto ostica, stiamo parlando di un bilancio che cuba miliardi a Roma, molto poi che entra nel dettaglio di non solo di numeri, ma proprio di situazioni veramente complesse. L'ho detto all'inizio, io non mi reputo un'esperta, ogni giorno scopro, provo, capisco ed è anche la sfida, diciamo, di fare un lavoro che fortunatamente, almeno per quello che penso io, non è uguale giorno dopo giorno. Non è facile andare in zone dove c'è un alto picco di estensionismo, dove ci sono situazioni di disuguaglianze vere, concrete e portare tematiche che proprio sono molto, come posso dire, impattanti anche per… non perché, questo lo voglio certificare, sia complicato far passare un messaggio, perché forse è il modo, diciamo, più complicato per far passare invece un messaggio secondo me è più semplice. Anche se, questa è la cosa, questo facevo, alla fine la concludo con un pensiero positivo, anche se io penso che invece io proprio da lì ho scoperto le varie potenzialità che noi abbiamo in campo. L'ho scoperta perché ecco, quando poi tu te le guardi quotidianamente, eccetera, capisci, ah ma se allora faccio questo, fra un anno, perché fra sei mesi, dopo domani, sì. È la cosa che provavo a dire prima delle varie cose, adesso qui ci leggo per esempio la cosa dei giovani. L'abbonamento a 50 euro per i ragazzi a 19 anni, inizialmente era un sogno. Ma perché? Perché pensavamo… c'è stato un momento in cui ho detto, vabbè, 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 facciamo l'Atac, facciamo… che succede? Perché siccome questo sì, c'è poca sinergia vera tra quanti parlano e poi però carte alla mano si presentano in pochi sul tema dei dati, quando abbiamo capito che invece era una cosa a impatto importantissimo pubblico, nella città, mediatico, importante, e che dava un servizio e che dava una potenzialità ai ragazzi di questa città e abbiamo capito che non avrebbe né sconquassato le casse di Atac, ma anzi, sono invece diventati anche qui un meccanismo virtuoso della cosa, degli abbonamenti di queste… poi vediamo l'anno prossimo, però intanto quest'anno si sono triplicati gli abbonamenti, frutto del fatto che forse se tu fai un messaggio chiaro, semplice e il fai capire che stai facendo una cosa per tutti, uguale a tutti quanti, allora forse questo tuo sogno di provare a far passare tutti questi mega numeri, questi mega allegati, tutta questa roba con un messaggio invece formativo in questo senso e civico, forse può essere una cosa che magari con qualche strumento tecnologico e qui magari sì, con qualche metodo diverso di approcciare a questo tipo di competenze di situazione, forse può essere utile. Anche perché, e qui mi leggo e rispondo ad Andrea, se non sbaglio, che ha fatto la domanda sulle politiche giovanili, a me sembra che il Comune di Roma sulle politiche giovanili negli ultimi tempi sta facendo un sacco di cose, i voucher sportivi per i ragazzi che devono andare, avete parlato di concessioni, noi su un pezzo del nostro bilancio dell'assestamento dell'anno scorso, di un anno fa esatto, era per fornire un servizio che molto spesso ai ragazzi di questa città, se ci sono situazioni di fragilità estrema o di approccio un po' particolare, magari non era un servizio, o meglio un servizio, un'opportunità, io la dico in questi termini. C'è il tema di tutti gli eventi di questa città che si stanno mettendo in campo, il concerto a cui fa riferimento è una delle tante cose che verranno messe in campo quest'estate, capiamo che c'è, diciamo, io penso che vadano messi tutti molto più in sintonia, su questo onorato ha fatto un lavoro straordinario, secondo me, perché anche la riattivazione di una serie di circuiti che erano stati troppo lasciati forse un po' al privato, invece c'è una compartecipazione totale da parte del Comune di Roma nel promuovere, nel farsi forza, nel farsi carico, nell'affrontare queste cose, forse su questo, c'è tutto, questo non si dice mai, perché è una cosa che pensiamo sempre che sia, ma tutto il lavoro che si sta facendo sull'efficientamento degli istituti scolastici, non è soltanto per evitare, per sistemare dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, ma è per consentire ai ragazzi di questa città di vivere aule migliori e di vivere spazi migliori dal loro punto di vista e questo grazie anche al PNRR, a tutto il lavoro che è stato fatto, c'è tutto il lavoro che è stato fatto sul CIS, su delle scuole dell'efficientamento energetico, tu chiedevi delle comunità energetiche, noi ne faremo due a municipio e si sta lavorando per fare proprio un lavoro anche su questo campo, non solo due spot a municipio, ma che diventino, entrino nel lavoro che facciamo quotidianamente, più lato patrimonio, più lato urbanistica e chiaramente ambiente perché stiamo parlando di sostenibilità, però ecco, sugli edifici pubblici, sulle scuole, tutto questo è stato avviano anche lì con finanziamenti, diciamo, vari, però alla fine l'obiettivo è passare e far passare, diciamo, questo tipo di messaggio. Anche lì, se tu metti, diciamo, in una scuola, non solo il fotovoltaico, ma la comunità energetica, gli spieghi che cosa significa, hai fatto un pezzo di quel lavoro, diciamo, in maniera più diretta, l'hai fatto sul campo, l'hai fatto concretamente e rispetto a quando andavo, io andavo a scuola, io racconto questa cosa così, vi faccio ridere, io andavo a scuola a Dante e sono uscita, sono la diplomata nel 2006, quindi ci sono arrivata qualche anno prima, vabbè, al di là dell'età, però il Dante, quando io sono entrata, quindi nel 2001-2002, era una scuola che andava a carbone. Io mi ricordo che venivano, quando c'era a settembre, ottobre, scaricavano e non ci facevano passare di là, chiudevano le porte e per una giornata intera si vedeva questo fumo nero che andava a carbone. Oggi, se io penso che noi stiamo lavorando all'efficientamento pubblico di tutte le scuole, se permettete io un pochino di gioia, di vanto, di cosa, me lo sento, perché lo stiamo facendo per la generazione, speriamo, non forse dopo quella mia, perché ancora, ma magari i miei figli, non lo so, quando mai li avrò, però ecco questo intendo. Sul tema del rapporto con i dipendenti, ne abbiamo alto allenanti, secondo me i dipendenti di Roma Capitale che, diciamo, sono una risorsa incredibile su tutto quello che poi noi facciamo, perché di fatto è una macchina enorme, stiamo parlando di quasi 30 mila dipendenti, più tutto il, diciamo, le partecipazioni, numeri enormi. Io sui dipendenti devo dire una cosa. Oggi, anche per le ragioni che venivano dette prima, lavorare a Roma Capitale non è più attrattivo come magari anni fa. Molti di quelli che fanno i concorsi lo fanno perché poi sperano di entrare nel meccanismo della pubblica amministrazione e chiaramente andare da altre parti, perché per anni, secondo me, c'è stato anche un declassamento della classe politica e dirigenziale tucur, se posso permettermi, romana e secondo me il Comune di Roma che prima era vado a lavorare al Comune, vado a lavorare al Comune, era una cosa che veniva detta, io me la ricordo, i miei non è la cosa che noi dobbiamo recuperare perché lavorare per la Capitale del Paese, secondo me… e sulla questione delle concessioni è l'ultima cosa, se posso. Al di là del fatto che Onorato sa benissimo di cosa parliamo perché noi sul regolamento dello sport abbiamo fatto tanto lavoro anche di quadratura del cerchio tra la maggioranza perché voi sapete, voi siete più esperti di me, quando devi mettere insieme 49 teste è molto complicato, soprattutto perché ognuno giustamente vuole migliorare o portare un pezzo anche dell'esperienza che ha. Su questa questione in particolare magari parliamo, eventualmente su questa proposta, riparliamo, la valutiamo, la verifichiamo anche sul campo, la vorrei vedere perché ripeto non mi occupo di questo nella maniera proprio più, diciamo, diretta. Ci sono tanti colleghi che sul tema dello sport fanno un lavoro sicuramente molto più buono del mio che è veramente di parte, però sul tema noi lì dobbiamo recuperare tanto terreno, tanto terreno. E se la cosa che dicevo prima ha un valore, almeno per me ce lo ha, cioè avvicinare i giovani allo sport non è semplicemente dargli il voucher, una tantum, consentirgli di fare una stagione e poi ci siamo visti se ne riparlerà. Il tema è che se tu devi chiudere e riallineare un po' le varie, lo ripeto, le varie disuguaglianze, centro-periferia, nord-sud, i ragazzi con gli altri, lo devi fare anche con delle cose concrete, stabili, strutturali. Se lo fai una tantum, hai fatto una cosa positiva, però non hai dato una risposta generazionale e completa e quindi hai fatto un pezzo... hai faticato e basta secondo me. Ok, io ti ringraziamo tantissimo, sei stato molto gentile, ha provato questi colloqui con i presidenti delle commissioni consigliere, sono importantissime perché noi entriamo praticamente in rapporto proprio con l'assemblea consigliare dove si formano poi le decisioni più importanti. Ti ringraziamo tantissimo, grazie a voi è stato utilissimo e prezzo di sentirci. Grazie a voi dell'opportunità. Grazie. Grazie a tutti